21 e Owen 20 e 18 20 e 18 ma quanto fa? 20 plus 18 e quindici più dici e siete 16, cosa fa? vai Gaia:「 Alexandra propoli il mio cojoni vai 부�ra madonna mind mi voglio sapere come ti fa i conti 15 e 20 e 38 36? come fa a fare 18 più 15 non fa? 36? Dio ti male dica, ti dai un szaffon che ti pitturo su quel muro, ti male puttani, che ti accopo Dio? 15 e 18 quanto fa? Coglione, Dio parco! Dio parco, Dio parco, che spacco a schiena cio cretino? Cio cretino, Dio parco, che buona piscina, pare che è un lavoro però, faccio vedere mi consegnate il szaffono, mi consegnate il puttano, mi consegnate il puttano, questa mia roba mi coglioni, eh? Eh, sale che cacica!